appiccino niente questo è un gigasso questo ha fatto la lotta è tutto sporco di sangue vedi che è ferito ecco vedi che si è mosso questo è ferito questo non è che abbiamo mangiato il gigasparco di sangue pesce lì si ha mangiato secondo me sono troppi non so se si attaccano fra di loro se fanno delle lotte guarda bene guarda guarda ritirata è ritirata non tanto perchè magari bocca? era un pesce che ce l'ha mangiato assolutamente no l'unico che si può romper i coglioni a loro da volte li vedi qualcuno con la coda o piccara così oppure in piragna oppure in piragna oppure in piragna riba quindi il mese milione si tramonto e poi via più più